La lettera d'addio di Sammy Basso, letta durante il suo funerale, è un toccante messaggio sulla vita, l'amore e il percorso che tutti, prima o poi, affrontiamo. Sammy, che ha vissuto con la progeria, non ha mai visto la sua condizione come una battaglia, ma come una vita da accogliere pienamente. Ha detto chiaramente. Ho vissuto la mia vita felicemente, senza eccezioni. Non si è concentrato sulle difficoltà della malattia, ma ha scelto di vedere la bellezza della vita, descrivendola come un dono di Dio. Sammy ha espresso un profondo amore per le persone che lo circondavano, ricordandoci l'importanza di amare chi abbiamo accanto e di creare positività, anche nei momenti difficili. La parte più emozionante è il modo in cui ha affrontato la morte, non con paura, ma con serenità. Per lui, la morte non era una fine, ma un passaggio verso qualcosa di più grande, un ritorno al creatore. Ha invitato i suoi cari a ricordarlo con gioia, a ridere, piangere, e a celebrare la vita, invece di soffermarsi solo sul dolore della sua perdita. Il suo messaggio finale è di speranza e amore, un invito a vivere pienamente, ad amare profondamente e a non temere l'ignoto. La vita di Sammy, seppur breve, è stata ricca di saggezza e le sue parole continueranno a ispirare chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo, e anche chi non lo ha mai incontrato.